Frank iniziò a suonare la chitarra all'età di tre anni. Immediatamente ha mostrato una grande passione per la musica. Specialmente per il blues, nel 2001 ha preso parte ad un grande concerto organizzato dall'Unicef nel quale ha suonato alcune canzoni originali. Nel 2002 si è esibito in diversi spettacoli come cantante solista nei diversi teatri della Sardegna. Frank fa la sua prima registrazione in studio all'età di sei anni. In seguito, ha partecipato a diverse manifestazioni musicali in Italia avendo come esito il primo classificato. Durante la sua vita, egli ha conosciuto diversi grandi artisti della musica blues, come Eric Clapton, Warren Hines, Derek Trax, B, B, King, Woody Gooey, Robert Cray, Greg Allman, Johnny Winter, Joe Bonamassa, Nick Taylor, e molti altri. Nel 2003 Frank ha iniziato a frequentare il Conservatorio di Musica di Sassari, studiando chitarra classica. Molto presto si esibisce nei teatri della Sardegna e nel resto d'Italia. Durante il suo tour musicale del 2013, Frank si esibisce in Australia, e in diversi stati europei, Germania, Francia, Inghilterra, Italia, dopo essersi trasferito a New York nel 2014. Frank si esibisce nei migliori blues club di Manhattan e Long Island come il BB King Blues Club, Terra Blood, Tamania Hall, Red Lion, e molti altri avendo la possibilità di confrontarsi con artisti ben noti della musica blues.